un video che ho voluto fare a modi sforzò nei confronti del nostro Presidente del Consiglio e l'ho fatto mettendone anche io davanti ad una lavagna e fra le altre cosine che gli ho rimarcato gli ho rimarcato che umanista, perché lui ha scritto cultura umanista sì esiste in italiano, non che non esista, ma esiste in quanto sostantivo da cui arriva l'aggettivo umanistico attenzione perché questo ci deve far capire un'altra cosa perché secondo me invece è preoccupante questo dato loro sono dei maestri della comunicazione pubblica e politica e sono sicuro, scento, ci potrei scommettere tutto quello che ho sono sicuro che loro hanno anche rivisto il video prima di diffonderlo se lo rivedono e decidono comunque di promuoverlo è perché si sono fatti un'idea, ahimè verosimilmente molto fondata che noi italiani si sia perso quel costume un tempo diffuso di saper analizzare e dunque criticare per cui pochi immagino avranno accorto l'errore così come l'altro errore è stato scrivere più come segno matematico e così via, anche questo cerca di spiegare perché questo? Perché noi siamo sempre più stati abituati ad una genericità di fondo ad una imprecisione che fa a botte con la vera cultura perché la vera cultura è appunto precisione, filologia se volete o comunque è attenzione filologica al dato che non può essere confuso ma deve essere rispettato nella sua unicità ma deve essere rispettato nella sua unicità